Molto partecipata alla giornata nazionale della sicurezza in mare organizzata dalla Lega Navale Italiana di Rocella Ionica, dal comando della Capitaneria di Porto di Rocella e della Croce Rossa Italiana della Cittadina, i partecipanti hanno potuto assistere alla simulazione di un incendio a bordo di un'imbarcazione, alle varie dimostrazioni di salvataggio in mare con unità navale della Guardia Costiera, personale OPSA della Croce Rossa Italiana e con ausilio dei cani di salvataggio della SIX. Tra i presenti l'ingegnere Ilario Franco, presidente della sezione Lega Navale Italiana di Rocella Ionica, Pietro Alfano, comandante ufficio circondariale marittimo di Rocella Ionica e concetto a Gioffre, presidente locale della sezione Croce Rossa Italiana. Per quanto concerne l'incontro di oggi verranno trattate varie tematiche sul soccorso, la gestione comunque di un eventuale soccorso in mare da parte di personale laico, soprattutto qua nelle vesti della Croce Rossa, è comunque formato per quanto riguarda l'esecuzione, soprattutto la corretta esecuzione di una rianimazione cardiopolmonare e ovviamente associato all'uso del defibrillatore. Il soccorso in mare, soprattutto in questo periodo con il sovraffollamento delle spiagge, sta diventando abbastanza difficile sia da gestire sia nell'identificazione degli eventuali pericoli o di pazienti o persone possibilmente a rischio, sia per il sovraffollamento sia per la gestione del salvataggio. Comunque i concetti che ribadiremo e che continueremo a ribadire anche in futuro sono il primo riconoscimento, il possibile riconoscimento di un possibile infortunato, l'attivazione dei servizi avanzati, in questo caso del 118 per eventuale gestione avanzata e inoltre, se qualora ci fosse necessità, iniziare in maniera precoce delle manovre salvavita come il BLSD. Oggi la giornata per la sicurezza in mare insieme alla Lega Navale della sezione di Roccella Ionica è proprio in concomitanza con l'inizio della stagione Mare Sicuro 2017, che è appunto iniziata il 17 giugno. La sicurezza in mare, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della balneazione, il compito istituzionale principale nostro della Guardia Costiera, la Capirea Battogli di Roccella. 40 uomini circa tra i uffici locali di Monasterace, Siderno e Bovalino, per pattugliare sia in mare ma anche dalla battigia appunto, per assicurare che la balneazione avvenga nella maniera più sicura possibile, sia alla frizione del litorale ma anche del mare territoriale che interessa i nostri diportisti.